hello guys benvenuti in questo nuovo video e si non è una sponsorizzazione delle poste italiane ma dopo tanto tempo mi è arrivato un pacco da un fan ma incredibile quanto sia popolare che anche va bene il mio amico di vecchissima data che mi ha regalato roba non so cosa ci sia all'interno onestamente e niente quindi andiamo a scoprirlo assieme sperando di non rompere nulla ovviamente forbicine l'IKEA come al solito se vi piacciono contenuti retroformat e unboxing di questo tipo appunto di prodotti vintage io vi invito sempre iscrivervi al canale lasciare un mi piace costa pochissimo del vostro tempo ma fidatevi che supporto un sacco il mio lavoro andiamo a vedere all'interno ok la busta foil non è vero ok scusate questa è una citazione è una citazione vecchissima ricche tragedia che dovrebbe essere vabbè intanto leggiamo il bigliettino sputto male apposta visto che è la posta hello bad guys ricontent la leggenda di youtube incredibile che giocatore da bozman che nel caso poi lascio anche il suo store in descrizione visto che vende anche lui carte ok abbiamo praticamente anzi facciamo prima tutti i prodotti va dovrebbe essere tutto vero quindi non so cosa dove stia buttando le cose quindi abbiamo un prodotto sigillato che non so cosa io questa è l'intervista quella se non erro fai dis ammazza proprio l'intervista ancora sigillata quel ragualato dirà che vorrei pronunciare in altre maniere ma non lo farò ma lui capirà benissimo e infine l'ultimo prodotto forbicine dell'ikea sempre a me se no io non riesco a fare nulla nella vita azzo proprio lui proprio la serie oro o sbaglio è proprio lei la serie oro del 2009 siled aha e che facciamo non l'apriamo in diretta è ovvio che si ringraziamo ancora bozman e vediamo che troviamo all'interno direte ma no star si è sigillato non farlo ma no qua c'è il content ovviamente si mema ok quindi abbiamo la serie oro del 2009 col pacchettino con ben mi pare 25 carte all'interno all'interno andiamo controlliamo dietro ecco 25 carte all'interno si e niente a sto punto apriamo la bustina ma sempre col potere dell'ikea se no non stiamo sperando di aver tagliato nessuna carta ma non credo ok ah già ci sono le gold ok andiamo così allora va bestia fantasma pegasotuono il 6 samurai uniti chiarizza non mi ricordo quante gold ci siano esilio degli spiriti ah la ranocchia degli alberi da comunazza bella lo stesso anche se il mazzo è un po' bastardo il kamon se volete la decklist del 6 samurai fatemi sapere purtroppo mi ingarbuglio con la lingua è anche tardi per me tardi le 9 no le 9 è tardi per chi lavora purtroppo sì che è tardi oh neos per hirobit pubblicato la lista con il nostro amico utente shogun quindi caso che dovesse interessarmi mandaggio a me andate a recuperarla senza la dustshot che è la carta costosa di lama dei 6 samurai un altro monarca i raw sempre dei six il dispositivo di salutaggio obbligatorio una delle carte più sottovalutate sempre lo dico sempre del gioco dell'era 5d e xid qua un gamma che se non erro è anche ruinata la carta o sbaglio qua si vabbè non li denunciamo con i lagonami mi scavano di nuovo il guscio vulcanico e il rino all'atomo non vorrei di una cacchiata ma le gold quante ne erano non c'è scritto vabbè non c'è scritto abbiamo il creatore inflessibile Iaichi e l'altra bestia fantasma che dovrebbero essere queste tre le gold quindi abbiamo il Ryza il vostro al des tre le carte ok infatti sì ci siamo e l'ultima questa è poi una delle carte che più adoro con gli artwork alcuna delle mie preferite di Yuki l'ultima il bottomless strap all gold che bello mazza quanto è figo proprio vintage come si suol dire penso che lo mettono in qualche mazzo perché è bellissimo e niente ragazzoni quindi io ringrazio il nostro Boze Man come si suol dire in una determinata lingua con determinato accent questo conserverò tutto e soprattutto questa qui e niente lasciate sempre un mi piace le visitate il suo store come dicevo prima e arrivederci e al prossimo video soprattutto dalle forbicine Ikea e detto questo grazie ancora per aver visto il video fino a questo punto e arrivederci al prossimo video see you next time come al solito se vi piacciono contenuti retroformat unboxing di questo tipo vi prego sempre di lasciare un mi piace un commento e iscrivervi al cala e al calare al cala Anderson grazie a tutti